Oltre dieci anni di truffe e danni delle assicurazioni, organizzando in maniera scientifica ed accurata finti sinistri e documentazioni mediche fasulle. Il capo della gang Angelo Guarino, collegato al clan Pucca, è finito in manette tre complici tra cui il fratello sono finiti agli arresti domiciliari. Nei guai anche due avvocati e sei medici per i quali è stata applicata la misura cautelare della sospensione. Indagini dei carabinieri su delega della Procura della Repubblica. I militari della compagnia Vomero, diretta dal capitano Sergio Vaira, hanno eseguito le misure cautelari tra Napoli, numerosi comuni e versani. Un'organizzazione criminale operante nel territorio campano da oltre un decennio, in cui erano coinvolti 35 soggetti, gravemente indiziati di essere il capo, i promotori e partecipi di questa organizzazione, che aveva il compito di truffare le compagnie assicurative e riscuotere poi i premi da frazionare tra tutti i partecipanti. Rimasti coinvolti medici, sia ospedalieri, sia di centri diagnostici e strutture private, avvocati che avevano il compito di istruire le pratiche per il risarcimento e di concordare le versioni da parte dei testimoni, nonché carrozzieri che avevano il compito di attestare false inesistenti danneggiamenti ai veicoli. Altre 23 persone sono indagate in stato di libertà. I proprietari delle vetture coinvolte nei finti sinistri non ricevevano direttamente i compensi, delegando i membri dell'associazione, riscuotere e ridistribuire le somme percepite illecitamente. Le attività coordinate dalla procura partenopea e condotte dalla stazione carabinieri di Napoli Marianella sono frutto dell'approfondimento su un materiale già sequestrato in un'altra inchiesta risalente al primo marzo scorso. Quattro dei medici coinvolti erano in servizio nel pronto soccorso degli ospedali di Marcianese e San Giovanni di Dio di fratta maggiore, mentre altri due operavano in centri diagnostici privati. Avete scoperto anche qualcuno che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza? Sì, due soggetti non facenti parte dell'associazione sono ritenuti gravemente indiziati di aver percepito circa 20 mila euro di reddito di cittadinanza.